Il presidente della regione, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha confermato i commissari straordinari in carica al vertice delle ASP delle aziende ospedaliere della Calabria. In particolare, con un decreto, sono stati confermati Antonio Brambilla all'ASP di Crotone, Antonio Battistini all'ASP di Catanzaro e di Vibo Valencia, Simona Carbone all'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Vitaliano De Salazar all'azienda ospedaliera di Cosenza e Gianluigi Scaffidi all'azienda ospedaliera GOM di Reggio Calabria. Il decreto è stato adottato alla luce della proroga del decreto Calabria, che richiedeva ad Occhiuto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di confermare espressamente i commissari in carica. Trascorso il termine, i commissari sarebbero decaduti. Dal Novero sono escluse le aziende sanitarie provinciali di Cosenza e Reggio Calabria, rette dai direttori generali Antonello Graziano e Lucia Di Furia. nominati nelle scorse settimane da Occhiuto.